e bentornati cari Gabbi Nauti da Fulvio Venanzini qui su Vlog Gabinetto per una nuova puntata oggi torneremo a parlare di cinema perché ho finalmente visto l'ultimo film di Dario Argento Il grande ritorno del maestro Occhiali neri, voglio fare una piccola recezione a modo mio perché io come sempre premetto non solo un critico cinematografico non sono un grande esperto di cinema però sono uno che guarda molti film e ho una mia visione ve la voglio condividere con voi le mie aspettative su questo film erano certamente molto basse ma intanto è riuscito a deludere lo stesso vi premetto che questo video contiene spoiler spoilererò la trama del film e anche il finale ma tanto che poi spoilererà se spoilererà da solo questo film purtroppo quindi lo sapete potete stoppare quando volete se ne avvertiti e io a questo punto direi certamente di tirare lo sciacquone su questo Occhiali neri doveva essere il grande ritorno al cinema del maestro Dario Argento il maestro del brivido effettivamente a sto film il brivido le fa venire ma per i motivi sbagliati io penso che non vedevo un film così brutto così imbarazzante da... penso dal penultimo film di Dario Argento vi dico solo che la cosa migliore di questo film è Asia Argento ora quando la cosa migliore di un film è Asia Argento è già preoccupante allora il film è il classico giallo così thriller poliziesco alla Dario Argento niente di nuovo purtroppo è il vecchio riproposto male riproposto malissimo è la storia semplice è la storia semplice di un escort che praticamente viene perseguitata da un killer da un killer così di prostitute in una Roma estiva in cui c'è stato appena un c'è un eclissi solare l'atmosfera potenzialmente interessante ma poi veramente il film è una cagata pazzesca un film che veramente te lo guardi e dici come cazzo è possibile che un maestro del cinema faccia sto film a 80 anni dici forse sarà l'età ma pure quello prima non era tanto meglio pure quelli 5, 6 prima non erano tanto meglio tutte merde purtroppo perché Dario Argento non chiappa un film penso da boh 30 anni non lo so almeno almeno 35 anni e questo qui è veramente l'apice della cagata l'apice del cringe cioè è fatto col culo sto film è un film che sembra pensato da un 13enne è girato da Lori del Santo la protagonista è Ilenia Pastorelli o Ilaria Ilenia Pastorelli che la conoscevo solo per un altro film ciclo un po' d'acciaio e poi c'è Asia Argento che in questo film devo dire è abbastanza credibile beh si è apparata a recitare dopo 45 anni qualcosa si fa risulta lei il punto forte di questo film anche a livello proprio recitativo la Pastorelli a me non fa impazzire ha dei momenti quasi comici un po' coatti forse non lo so quanto sono volontari o quanto sono involontari però questo film è veramente una macchietta poi c'è questo ragazzino cinese che è diciamo il suo braccio destro perché durante una fuga da questo killer questa escort investe fa un incinente stradale investe una famiglia cinese e praticamente muoiono tutti tranne questo ragazzino che improvvisamente poi prima la odia poi va a vivere con lei e diventa il suo miglior amico e diciamo il suo braccio destro insieme ad un cane perché lei durante questo incidente perde la vista e ritorniamo del cliché della non vedente e il bambino che avevamo già ritrovato nel film di Dario Argento il gatto a nove cote no? e c'è questo cane che non si capisce bene se è un cane guida per ciechi un cane da guardia un cerbero non si sa che cazzo rintintin che diventa il braccio sinistro quindi c'è il braccio destro è il bambino il braccio sinistro è il suo pastore di Resc o viceversa allora quali sono i problemi principali di questo film? tutti cioè è proprio il film il problema è la trama è banale è recitato a cazzo subito chi è l'assassino proprio dialoghi didascalici non c'è una cosa bella in questo film fa rire ma io dico è impossibile che nessuno ha fatto maestro ma che cazzo stanno a fare ma questo film fa schifo ma fammolo fammolo far qualcuno magari ci metti il nome ma così non si può mandare in giro un film del genere cioè io non so da che parte cominciare veramente la regia che almeno quella in Dario Argento una volta era un po' una sicurezza qui non si sa che cazzo fa c'è delle inquadrature assurde cioè ma già la scena dell'amplesso della prostituta col cliente cioè fare lo squalo l'ha zoomato sulla bocca di questa che lo bacia fare lo squalo ma che cazzo è c'è delle soluzioni assurde il cane che viene narcotizzato in modo ridicolo in modo ridicolo questo se questo cane che sta là questo gli spruzza sta bomboletta il cane si abbassa palesemente perché gli hanno fatto vedere una crocchetta e lì si sarebbe addormentato cioè tutto non sta in piedi un cazzo nel suo film non sta in piedi veramente una sega e proprio questo cane è la parte più tragicomica del film perché questo cane non si sa se è una bestia assatanata un cane guida per non vedenti muocca cioè fa delle cose assurde viene narcotizzato poi in un certo punto sbrocca dilania la gente non si sa che cazzo fa Dario Argento con le scene dei cani non ne va molto d'accordo perché pure in tenebre ce n'era una per me è abbastanza ridicola ma qui cioè tocchiamo veramente l'apice già il cane eroico non si può vedere no il cane eroico nel 2022 non si può vedere io quel finale dico no spero che non vada a finire così perché veramente spacco il televisore cioè non si può ci sono delle scene che sono d'un cringe incommensurabile proprio cioè a parte questi a un certo punto scappano la la pastorelli il bambino cinese e il cane anzi no senza il cane perché il cane l'ha già catturato il killer so formello tipo scappano a piedi per la campagna dopo mezz'ora arrivano sul rio delle amazzoni ci sono dio caro i serpenti giganti assassini gli vanno alla gola li strangolano ma che è ma come sta in Roma Asia Argento venne ammazzata da sto killer eh quella si mette a piagna perché ormai era la sua amica no e perché diciamo l'aveva aiutata dopo l'incidente che era assistenza sociale non mi ricordo che era comunque l'aiuta gli da questo cane vabbè insomma quando fanno amicizia poi lei cerca di aiutarli mentre sono in fuga da sto killer no quando Asia Argento muore la pastorella gli si mette a piani ah il bambino pure tramotizzato e quella che fa quella che dice è morta anche tua madre ma perché glielo dici subito perché glielo dici lì per lì quello è già tramotizzato che è morta l'amica è morta anche tua madre ma vaffanculo ma aspetta mezz'ora aspetta un giorno no subito che lo dice cioè ma perché perché così perché lui sapeva che la madre era ancora in coma in realtà era morta non glielo avevano detto ancora per tatto è meglio lo dici proprio mentre è morta già l'amica sua pure quella pure la tua mamma è morta sono morti tutti mi dispiace mi dispiace dovevo dittelo perché ha scritto così per esigenza di copione dovevo dittelo adesso dopo non c'era più tempo ma l'ho scritto al cazzo sto film veramente al cazzo le scene di sesso della escort sono veramente pare maccio capa tonda ah ti è piaciuto vero tu fai tutto per soldi ti è piaciuto vuoi i miei soldi e tu vorresti cioè è proprio ridicolo mamma mia se era già capito chi era l'assassino l'assassino era un cliente incazzato di sta escort che lei l'ha rifiutato perché puzzava e da lì fanno a strage cioè ma che cazzo vabbè si capisce subito potrebbe pure starci ma si capisce subito insomma alla fine come il tacopione in seguimento finale no? questo caso sto killer cattura e chiude dentro un recinto insieme ad altri cani sta sto cane da guardia della Pastorelli no? intanto cerca di torturare lei al bambino cinese dico speriamo che il cane non si libera perché veramente questo tocca l'apice dello schifo e invece sì e invece sì il cane tipo rintintin a un certo punto sente il richiamo della padrona butta giù la rete non si sa che cazzo fa entra entro sta rimessa che è per salvare la padrona ma giustamente il killer con i suoi poteri mentali diabolici cerca di manipolarlo e rigirarlo contro lei a favore di sé ma questo cane poi a un certo punto per un attimo induggia poi si ribella gli esalta questo killer ha in mano un cortello pure quella scena è assurda è incredibile fatta a cazzo gli esalta addosso niente si vede sto killer che lo sta lo sta a sgozzare non si sa come il cane gli da una botta gli gira il cortello verso le sé quindi si ferisce casca a terra non si sa come succede sto cane fa una mossa di jiu jitsu di aikido non lo so cazzo fai la rigira contro questo killer casca per terra il cane gli va la gola e poi ci sono un quarto d'ora del cane che gli magna che gli magna la giugolare gli magna la gola il budella bene schifo sangue vabbè ci sta gli piacciono queste cose delle gente però troppo quindi gli uccide l'assassino vissero felici e contenti ma alla fine la cosa bella è che sto cane che è una furia assassina glielo lasciano glielo lasciano questo ammazza dilania la gente vabbè glielo lasciamo a questa ragazza ormai non vedente ne avrà bisogno e il bambino poi torna una parente della Cina prende è veramente un film che sembra un film fatto male dell'anni 80 cioè sembra che Dario Argento sia rimasto fossilizzato sia rimasto congelato nell'89 nel 94 niente non abbia visto che l'oro era andata avanti e c'è Giulia Ducourneau non lo so è venuto valide tutto Midsommar lui è rimasto ancora con l'assassino delle prostitute la cortellata il cane eroico tutte queste buffonate ancora bambino con la donna cieca mamma mia è rimasto lì è rimasto lì infatti questo film non lo guardava nessuno che li vengono a guardare ho detto faccia schifo e non è andata a vedere nessuno al cinema questo non è il cinema dell'orrore questo è orrore cinematografico perché se lo vedi te pia un corpo se ti piace il cinema sembra di vedere rintintin che dilania la gente la locandina è copiata dai si vivono vabbè è una citazione un omaggio ma almeno la locandina è in vento perché poi ti va a paragonare con capolavoro del cinema e poi fa sta cagata almeno almeno la locandina originale no manco quella veramente un film di cui poi salva forse forse la colonna sonora che se li fa mi ha ricordato i goblin mi ha ricordato quel tipo di colonna sonora di Dario Argento non mi ricordo chi l'ha fatta però è troppo troppo come dire troppo incalzante troppe musiche un film vecchio stantio brutto inutile un film che sembra quasi tutto un pretesto per mettere in scena sbudellamenti che a Dario Argento mi piacciono tanto fa vedere due ore di cane che ciancica la gola dell'assassino quella squartata ma diciamo gli effetti speciali ogni tanto andavano pure bene ma qui c'è le scene del cane che aggredisce la vittima sembra vedere non lo so il lupo della storia infinita un cazzo di peluche che spinto così sulla capoccia di uno fa schifo cioè ha reso male i suoi film ci hanno speso un botto di soldi ha incassato 170.000 euro cioè ha incassato 10 volte meno quanto ha costato ma tutti questi soldi mi ha fatto sta merda ma te lo facevo meglio io l'effetto speciale del cane che mangia la capoccia se poi vede un peluche così che poi veramente boh io da quello che so se uno va a prostitute e puzza gli fanno fare la doccia non diventa un serial kill gli fa fare la doccia è fine invece questa qui era snob poi aveva costruito questo casino e quindi niente puzzi d'ammazzo va bene questa puntata così breve estiva fresca fresca mica tanto finisce qua io vi invito a dirmi la vostra su questo film se vi è piaciuto se l'avete visto io non vi consiglio neanche di guardarlo perché boh a me se lo vede guardà è come vede l'equivalente di Alex Lariete nell'horror però fatemi sapere cosa ne pensate vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale cliccare sulla campanella per stare sempre aggiornati mettere mi piace se vi piace il video condividelo se lo volete condividere seguitemi su social seguitemi anche per strada se volete io ci sto vi saluto ciao 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 ciao